Una è la riuscola e l'altra è l'intervenzione. Dimeci, toccate fino a voi. Prima una lettera, dite. Cari Ditti, è da un mese che ci rompiamo per organizzare questo compleanno. Il grande giorno è arrivato. Ed eccoci qua. Tutti riuniti per festeggiare il tuo quarentesimo compleanno. Paralitari, fatti di giorni belli, spencerati e tante calzate. Magli di giorni difficili, superati da te, sempre con grande successo. Cari Ditti, quello che ti vogliamo curare, oggi, e di realizzare tutto ciò che il tuo cuore, oggi, desidera. Buon come anno e ti vogliamo un mondo di bene. Fabiana, Maria, Max, Gina e Carmela. Si sono riportizzate i registri. Tanti Dici e venti queste, ma così è fatto, ma alla fine sono riusciti, come se ne viene, a fare un grande film. Spendiamo le luci e auguriamo a tutti quanti buoni. Buona misura, a te, Tino. E ti avrete da comprire la piglia. La storia di Tino, il tempo del coraggio e dell'amore. Pionda, Tino. Sempre pronta a slegare i suoi sogni. La storia di Tino, il tempo del coraggio e dell'amore. E da un'amore, a un'amore del buio. Non sono, non compromessi, la vita non mi renda senza pubblicità. Non dali, non passati, come questo. E' un corpo di fulmine. E' un messaggio bello. Oh, Jack! Ma si è rimasto il sacco. Ma si è passato di qua. Trattegiamo il mercato, giusto il tempo di inturire. Tanto ci vogliamo bene. Ma che sapore ha? Ma si è trovato un pianoforte! I sogni non sono dei cassetti Perché ci stanno stretti Arrivando l'unità E' un'amore All'unità del buio. Adesso non hanno compromessi Arrivano in diretta Senza pubblicità E' un'amore Ci stanno strette, rimando un po' a metà. Sono dando compromessi, arrivano in diretta, senza pubblicità. I crudelli, i bastardi, i nostri ultimi non sono dei cassetti, perché ci stanno strette, rimando un po' a metà. Sono dando compromessi, arrivano in diretta, senza pubblicità. I crudelli, i bastardi, i nostri ultimi non sono dei cassetti, perché ci stanno strette, rimando un po' a metà. E adesso tutti a ballare. Ma guardi, signor Fazio, mi mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito. Mi spiace. Ho un problema nella testa, funziona a metà, ma l'altro parte il suono che fa. E ogni volta che mi parte si prepara tante, come quella volta che stessa. La principessa. Cominciano il video, è sempre molto difficile. Ti amano come il primo giorno. In me di testo qui. Allora dicono una cosa, è racchiostato in un piano. Dicono che per ogni persona esistono senti amici. Se il sorriso delle nostre giornate è triste, tutti i valori di questo. Sì. Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 felici. Alcune cose non si capiscono, altre sono felici. Mai inoltre! Buon comprensione amore mio! 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 Grazie. Due volte, pezzi di luce a me, sempre il corpo c'è, la mente e le potere, tu mi rubi in anima. Dalla la mia testa, donna, donna, musica qui, la mia testa, donna e donna, scuola che stesse a me. E così pensiamo un po' di Roma, Bangkok, pochile chissà. Die, quassise anche la birra, perché ho deniglia, stessa? Che a un mondo, a un giorno, a un giorno, voi, le t'euta amica, si fa quel mondo. Massa luce con la piastro E' un'altra cosa C'è il piano te Ecco qua, mo c'è un altro applauso, mi auguri a te, mi auguri a te, mattina, tre, due, uno, e, 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 mattina, tre, due, uno,